ok dovremmo esserci benissimo bentornati ad un altro video oggi siamo su paladins non l'ho mai provato e ho appena finito di fare il tutorial a occhio è molto molto simile a overwatch ma una roba mi piace è che a quanto pare ci sono queste carte non ho mai provato proprio neanche mai fatto niente vediamo com'è innanzitutto mi gironzolo un po' mi sa che i campioni devo comprare giusto ok allora credo che questi sono quelli che ho boh dai non è che costano oddio però non so quanto ci vuole per fare 5.000 monete beh allora e select region direi europa allora training custom region casual credo sia casual devo fare non so e stile league of legends a champion ma io li ho tutti si pare che cazzo uso cos'è questo che figo bomb king damage ok ah questi sono i vestiti che ho ok le orecchie lobby preparati per la battaglia ben taip 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 oh buon dio ma perché finisco sempre a scegliere il bombarolo anche su overwatch junk rat prima roba che ho preso ti sento è veramente comunque non conosco i campioni quindi probabilmente si non so se scegliere tanto questa cosa produce ok 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 la battaglia devo vedere cosa fa devo vedere cosa fa shoot, steal, guarderemo i destroyables prendiamo questo caso, compriamo a caso la prima volta 3 3 2 1 e così è ma comunque il cavallo è comparto da solo che allora lancia attacca bombe ma è bellissimo come è fatto un re bomba com'è che si è scegliato questo cavallo ok mamma mia bellissima bellissima ma, 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 ma Gesù, bambino cosa fa la cu? E' divertentissimo Divertentissimo F cosa fa? Ok Ok, va bene Ah, non hanno ballistica le robe Quindi io le tiro dritte e vanno dritte Cosa è quello? Ok Ma abbiamo heal? Ok Direi che E' meglio Ok Mi piace, mi piace questo Ah, merda Ci sono dimenticato di comprare Ok Ma che si cambia il personaggio? Non si cambia il personaggio? Ah, ok Kill to heal Getting a kill Or a reminaccio Heal to 300 Catch you amount of speed Oh, facciamo questo Ci compriamo Proprio Cosa fa questo? Bene Sto proprio comprando a caso La prima volta Quindi Bellissimo Madonna Cicchino Ok Eh, ma Triosca Sono stupidi Che non si spostano Cosa fa la E Cazzo Cosa fa la E? Cazzo Dive your king a big high Ah Bellissimo Ok Ok Credo che ho fatto un'azione buona Sto totalmente a caso Gigamento Però Mamma mia Bellissimo Che riato Che riato Che riato Ok Devono stare lì a fianco Vabbè Nel tutorial Era così Ok 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 Mamma mia Bellissimo Bellissimo Ok C'è veramente A occhio Guarda Non mi Neanche su Come si chiama Su Overwatch Molto Molto divertente O poi vabbè Probabilmente ho preso un campione Tipo OP E I nemici Fanno un po' cagare Perché Perché si Però E anche perché Sono appena iniziato Quindi Mamma mia Mi sa se io ho preso un campione Un po' p Mi sa se io ho preso un campione un po' p Mi sa se io ho preso un campione un po' p Ok Utilità Increase il Monto speed Increase il Change out Ok Che ti ha un kill Alimination Heal Ok Increase il Range Questo Questo Ma compriamo questo E You gain movement speed Movement speed È sempre utile Ok È questo Crowd control anche Eliminiamo Dai Andiamo proprio A caso A caso Ok Eccellente Eccellente Immortal Ok E' come la prima partita sto andando veramente E' come la prima partita Dà il rei un grande hugo! E' come la prima partita! E' come la gloria! Ok E' stato figo! E' stato figo ma mi sa che era venute contro nemici fuori dal comune Nel senso che... Nel senso che... Questo qua dovrebbe essere il... McFree della situazione Dio santo quanto damage! Ma com'è che si premiano? Cos'è sto rumore? Ok 33 kg ho fatto! Ma stiamo scherzando Erano proprio... C'è non si impegnavano ma sono un campion difficile ora Non riesco a capire Play again Vabbè System Cosa significa tutto questo? Bombarolo Allora veniamo un altro Tu chi sei? Damage Damage Bombarolo Ma andiamo di bombarolo di nuovo Mi...mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Cioè Strano che nessuno lo usa Mi sembra OP Che poi E' un bombarolo proprio cattivo Perchè Si attaccano e tutto Non è come Junkrat che rimbalzano Alza Mi sembra che queste sono proprio quelle che siano all'inizio Cos'è? Deft Hines? In caso di un risultato di risultato Il tuo risultato di risultato di risultato Il tuo risultato di risultato di risultato di risultato Il tuo risultato di risultato di risultato di risultato Vabbè Direi di Di far questo Mi piace alquanto Fare molti più donne Non ho emot Tipo Ok Ok E' veramente 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 bello come gioco Cioè Sei so vero Cioè mi piace anche questa storia del 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 fatto che puoi avere Ste carte E tutto Sarebbe molto più competitivo Inizio a credere veramente che sia questo il problema E' un campione troppo OP Cos'è questo? E' Rammus Bellissima l'arma Cos'è quel pompone E' veramente stupendo Cioè non ho altro da dire Non so che lo sa Fa cagare l'oro però non c'è Scusa 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 Ah mi faccio male da solo Eccellente Adesso che lo so Ok Mamma mia che tank che è Scusa Oh no Oh no Ah questa qua sarebbe la D.Va Ok Cos'è che volevo? Questo Questo mi piace alquanto E.. si non posso comprare altro Esatto Probabilmente Inizio a vedermi qualche stream dei Pro Player così capisco anche un po' come buildare, come funzionano i personaggi al primo impatto al primo impatto mi piace al quarto ti mostro io come ci va si va, e allora è che due coglioni non muorono più ok che cazzo schai ok non sto capendo cosa sta succedendo però credo che stiamo vincendo ok ok chase merda oddio questo mi piace assai oddio santo ho capito adesso cosa fa quella che stupido cioè io faccio così lei rimane lì poi è proprio come jank the spirits do not rest Oh mamma mia non posso far tanto eh si comunque mi qua è proprio un campione e lo tieni per tutta la partita ok molto bello e sparisce che mi sto sparando eccellente manzo no ci dobbiamo c'è Mokai ok no 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 Oh m***a, credo che tu c'è una che fita Bellissimo, è andato a suicidarsi C'è una ragione Ok Bellissimo Ah dovevamo vincere 4 Facciamo un Mort damage Ma se lo lancio Se mi compare Non succede niente Ma sono un nano da giardino Ah ok con K vedo le abilità Ok Il bomb king E' la roba più bella Che abbiamo mai visto Eh madonna che cazzo è Ma si scelta noi continuamente E' delettata Che cazzo è che mi sto su? I will not die Not yet amico Cata vita è Abbastanza per rompermi Ok Ah giusto Ok Top play La Sarebbe la diva Ah si quando ho scelto la pico Ok E' il sorprendimento Riasci là Eccomi là Dio santo Bellissimo Ok Reward score Benissimo Beh dai Non è difficile fare kill Almeno questo personaggio Ok allora Questo Anche le casse Questa cosa? Questa costa Questa invece Apriamo Reduce the cooldown Ok Dove un po' leggermi Mille gold Ok Mi leggo un po' meglio Comunque tutto Aspettate Se le posso comprare con Ah solo con Le monete Items Ne ho da leggere Sì Bello che poi hai le skin Anche per le armi Stupendo Ok Va bene allora Questo era Paladins Era la mia prima partita L'ho fatta come vuoi Proprio Perché così In caso mi dite Cosa sbaglio E cosa posso Fare meglio Insomma Delle dritte Comunque mi sembra Molto meglio Di overwatch A meno Primo impatto Riesco Qua riuscirei a farmi Un'intera giornata Solo di paladins Su overwatch Invece dopo un po' Mi annoio Perché qua ci sono Le carte Puoi far tutto Insomma Molto bello E boh Allora niente Nel prossimo video Ciao allora